Estivum l'11 e 12 agosto apre gli appuntamenti a Cascia, ecco questo sicuramente è un momento di promozione del territorio attraverso alcuni dei suoi prodotti tipici. Sì, questa è un'iniziativa che ha raggiunto il decimo anno, che ovviamente va a promuovere un prodotto tipico del tartufo estivo delle nostre zone, che ovviamente va però ad aprire un po' il periodo di Ferragosto, a cavallo di Ferragosto prima e dopo, dove si vanno a creare diverse iniziative per cercare di dare un momento di festa in questo periodo di ferie, un periodo di villeggiatura da parte di molte persone che vengono nel nostro territorio e ovviamente sono iniziative, quella dell'estivum che poi entreremo nel dettaglio, il Palio delle Frazioni ma nello stesso tempo anche la Prologo e tutte le associazioni che gravitano nel nostro territorio diciamo si sono riunite per poter fare il meglio possibile in questo momento proprio per cercare di vivacizzare le serate d'agosto. Si apre il cartellone di Estivum che ospita diversi eventi. Sì, gli eventi sono tanti, l'11 e il 12 di agosto e abbiamo voluto anche inserire tra le diverse iniziative anche due importanti iniziative che riguardano un po' il sociale perché per noi è importante anche ricostruire dopo il sisma un po' una rete di rapporti sociali che possono comunque far tornare le persone e far star bene le persone. Per cui da qui nasce l'iniziativa del Moica che è il Movimento Italiano delle Casalinghe che proporrà dei laboratori per insegnare ai tanti turisti, speriamo, l'arte del fare i fiori a livello proprio manuale. E poi ci sarà un'iniziativa nuova che quest'anno noi proponiamo che è lo Street Socher che è appunto un partito di pallone da strada. È un'iniziativa che nasce in collaborazione con l'associazione IACACT e con l'associazione Coraggio di Cascia che vede tanti giovani in campo per iniziative sportive, di solidarietà e soprattutto di aggregazione. A Cascia ad Agosto diverse iniziative e non solo Estivum. Sì, infatti abbiamo un ricco calendario condiviso con la Proloquo e altre associazioni del nostro territorio. È un calendario che si articola in una fase prima del Ferragosto, intorno al Ferragosto e dopo il Ferragosto. All'inizio dall'Estivum è molto pubblicizzato, ormai è arrivato al decimo anno che sarà il sabato, il weekend dell'11 e 12. Poi si passerà alla fase del periodo di Ferragosto quando gli oriundi, molti romani e noi speriamo anche coloro che riassaporano un po' il nostro territorio dopo le vicissitudini passate, torneranno tra di noi per festeggiare anche in quei giorni dei momenti conviviali. Quindi avremo un Cascia a tutta birra il 16-17 organizzato dalla nostra Proloquo, poi avremo il Palio delle Frazioni che è giunto alla quindicesima edizione. È una rassegna di frazioni che insieme si sfideranno sull'aspetto culinario, quindi a tavola con le frazioni in festa. È un momento per raccordarci e per fare insieme delle iniziative che possiamo proporre ai tanti turisti e pellegrini che continuano a venirci a trovare e noi ne siamo contenti.